Adesso arriva lui Apre piano la porta poi si butta sul letto E poi e poi Sono Guido, buongiorno Buongiorno Guido Tutto bene? Tutto bene Ascolta, io sono atterrato in questo istante dagli Stati Uniti Oggi pomeriggio se Francesca potesse andrei volentieri Allora, va bene Fatti dire da lei quando è il momento migliore per lei Adesso è che so che è sempre molto incontro, guarda, sin come oggi pomeriggio invece io sono abbastanza libero Io ti richiamo fra un quarto d'ora Perfetto, ci sentiamo fra un quarto d'ora E tu mi dici a che ora posso Se lei può Grazie Grazie, grazie Ad un tratto io sento afferrarmi le mani, le mie gambe tremare, e poi, e poi, e poi, e poi. Sveglia da giù la luce, la sua bocca sul collo, ha il respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo, o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Non so se puoi farlo, o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Grazie. Grazie. Grazie.